Lucera, perla dei Monti Dauni, sta per compiere un passo epocale. È l'unica città della Puglia a candidarsi come capitale italiana della cultura. Con la sua storia milenaria, la sua cultura vibrante e l'arte che permea ogni angolo, è pronta a brillare come mai prima d'ora. Immergiti nella bellezza delle sue piazze storiche, delle sue chiese milenarie e delle sue tradizioni affascinanti. Lucera è il luogo in cui la cultura prende vita, alimentando sia la mente che l'anima. Sosteniamo Lucera nella sua candidatura come capitale italiana della cultura. Un onore meritato per una città che incarna il patrimonio culturale e l'innovazione. Unisciti a noi nel sostenere Lucera e il suo sogno di diventare il faro culturale d'Italia. Condividi la bellezza di questa città straordinaria con il mondo intero. Insieme possiamo fare la differenza. Lucera 2026, la nostra storia, il nostro futuro. Al prossimo episodio